Buonasera, benvenuti in allenamenti pure, episodio numero 47 credo Oggi ragazzi, petto, ho un enorme news da dirvi ma non è ancora un momento ragazzi tra un po' di mesi Forse potete vederlo dal mood in cui sono, ma ragazzi si inizia a fare sul serio Detto questo, oggi come al solito partiamo da un'inclinata a multipower Oggi è il secondo allenamento di petto alla settimana Come chi di voi mi segue su Instagram e TikTok sa che è l'unico gruppo muscolare che faccio due volte a settimana Detto questo, sono già warmappato come al solito e partiamo con la prima lavorativa Oh Oh Allora ragazzi passiamo con la pianta dei manubri peso abbastanza ridicolo partiamo qui in 35 per poi passare ai 40 ma ci focalizziamo molto sulla tecnica quindi lente controllate Allora ragazzi Allora ragazzi Allora ragazzi Allora ragazzi Allora 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 Allora